Ciao amici collezioni, siamo avanti al top 1 del fumetto Disney non solo, quest'oggi un rapido commento, quanto purtroppo deluso, di questo grande fumetto, grande per le storie e le contenute, secondo me per tanto altro no, Grandi Maestri Romano Scarpa. Guardiamo il tutto, meglio assieme. Dunque partiamo con i lati positivi. La copertina di Casti, io ho presi quest'albo esclusivamente per essa e in realtà anche per un altro motivo, ma che purtroppo rientra nei contro, o meglio anche nei pro, ma non era quello che mi aspettavo. Copertina inedita di Casti, mi permetto di dire non così particolare, insomma io di Casti sono abituato a ben altro, come per esempio questa appena uscita, di cui feci il video ieri, tutto questo accade qui, che è ben altro impegno, secondo me, lungi da me giudicarla, non riuscirei minimamente neanche a ricalcarla o a copiarla. Le storie al suo interno sono di pregevole scelta, indubbiamente, ma mi permetto di dire che è una scelta un po' scontata, perché con tutte le storie meravigliose. L'unica che onestamente ad oggi non ho ben presente, leggerò per conto mio, perché questo non vuole essere una recensione, ma solo un commento generale, è l'ultima, di Venezia di Paveroni, sempre di Romano Scarpo, ovviamente, come tutte le altre storie. Storia che è dell'85, quindi fa un grande passo avanti rispetto a quelle contenute in quest'albo, ma onestamente non me la ricordo, può essere che, ecco, leggendola, il mio commento possa cambiare su questa storia, ma non sull'albo. Ecco, l'altro punto positivo è questo, ovvero l'omaggio, l'omaggio tanto atteso da me, amante di Casti, non solo, appunto dell'autore verso Romano Scarpa. Ora, questo è l'omaggio, ok? Poi ne parliamo fra poco ancora. C'è una prefazione che, mi permetto, potevo scriverla anch'io, è perché non voglio, in questo caso, elevarmi a grande redazionalista. Semplicemente Casti elogia il suo grande punto di riferimento, che è Romano Scarpa, in due pagine, ma leggendolo veramente non c'è nulla di più di quello che già sapevo. Anche Mercatelli, con un bel lavoro sicuramente più filologico, va a elogiare l'autore in questione, lo fa in qualche pagina in più, indubbiamente. E poi le storie, storie memorabili, ripeto, il Gamberin Salmi ne parlai anche su questo canale, ma così come parlai dell'Unghe di Calì, parlai dell'Occano da Ciricaua, parlai di Pippo Lupo, anzi parlerò di Pippo Lupo in un altro video, perché già lo registrai. Storie tutte fenomenali. In fondo non c'è nulla, semplicemente il fumetto si conclude con l'ultima storia e tra una storia e l'altra abbiamo una pagina di contenuto, di redazionale, che semplicemente contestualizza la storia in questione, ne dà un commento molto professionale, sicuramente non sarei capace di farlo. Non so chi sia in questo caso, ammetto, redazionalista di turno, ma potrebbe essere Agrati o Notarnicola, non ne ho idea, sono sincero. Chi nei commenti mi vorrà aiutare lo ringrazio in anticipo. Ma veniamo ora alla parte critica, per cui sicuramente una buona parte di voi dal titolo intuì che io dovessi dire qualcosa, per il quale io rimasi deluso, non solo dal titolo, ma anche dall'incipit. Ebbene, io aggiungo che rimasi, sono rimasto, sono fortemente deluso. Per una serie di motivazioni. Leggiamo dietro nel fumetto cosa venne scritto. Romano Scarperi, conosciuto tra i più cerebi fumentisti di Toppi e Paperi, di sempre, in tutto il mondo, in questo volume sono raccolte alcune delle sue più belle storie, accompagnate da un escursus sullo stile e sugli spunti del maestro veneziano. Siamo d'accordo che, contenutisticamente, quest'albo è meritevole. Le storie scelte, lo ripeto, sono veramente dei capolavori, sono storie memorabili, che hanno plasmato il fumetto. Grazie a Romano Scarpa, grazie a queste storie, noi stiamo leggendo personaggi, contesti, avventure che altrimenti mai avremmo letto. O comunque avremmo potuto leggere, ma chissà in quali situazioni, con quali toni, con quali stili. Ebbene, Scarpa è un pilastro di tutto quello che è la baracca Panini Comics, grazie a Romano Scarpa, ma non solo Panini. Insomma, il mondo Disney deve dare tanto a Romano Scarpa, ok? Però ecco il fatto che venga scritto, accompagnate da escursus sullo stile. In realtà i redazionari sono veramente pochi, perché tolto un ringraziamento iniziale di Casti, che non è nulla se non un suo commento, che apprezzo, però non mi dice nulla di più, ripeto, rispetto a quello che posso già immaginare, su Romano Scarpa, grazie a internet di fatto, grazie a forum, grazie a siti. Ebbene, Mercatelli, ciò che dice, anche lui, è un discorso un po' trito. Il fatto che abbia un tratto versatile, inconfondibile, un'edità senza tempo, insomma, si sa. Dubito che vi sia il cliente che, non conoscendo Scarpa, compra l'albo per leggere ciò. Io penso che questo volume venga preso da chi Scarpa lo conosce, anche perché il prezzo è importante, 29 euro. E qua non si tratta manco più di andare sul pubblico occasionale, perché finché si parla di 10, massimo 15 euro, anche un ragazzo, che io ritengo ragazzo fino a 20 anni, intendo in questo caso, si può permettere di pensarci, ma 29, che poi sarebbero 30, perché la psicologia dice ciò, no, comincia ad essere veramente tanto. E me ne rendo conto soltanto adesso di come molto spesso viene anche abusato il cognome di qualche altro autore importante. Andando avanti, infatti, viene detto, con una prefazione e un omaggio artistico di Casti, che firma anche la copertina. Io non ho idea e non mi interessa, lo dico, lo sottolineo perché, tipo questo per dire, perché è giusto, altrimenti sembra che io voglia sapere di più, ma in realtà no. A me non interessa sapere quanto venga pagato un autore, in questo caso Casti, per realizzare la copertina, il ringraziamento e questo disegno, ok, perché l'omaggio è questo. Non mi interessa, davvero, mille, duemila, non lo so, perché non è questa la parte importante. Ma il fatto che su Anteprima venisse sponsorizzato questo albo come se Casti dovesse omaggiare l'autore. E io con omaggio intendo due potenziali possibilità, o un omaggio artistico, autoriale, come quello appena visto, o comunque, come tanti si aspettavano secondo me, un omaggio materiale. Non mi aspettavo chissà che cosa, ma mi sarei aspettato, sì, un'immagine simile litografia, simile cartolina, staccata dall'albo, una cosa che rimanga, magari pure firmata, che cosa ci vuole? Qual è il costo dietro a stampare un disegno come questo? Sono sincero, adesso è una domanda che pongo a chi ne sa più di me, non voglio elevarmi a darmi anche le risposte. Pongo domande, qualcuno mi risponde, se può, se vuole, se ne ha la possibilità. Ma quanto costa stampare questo disegno su carta ruvida, a colori, a copia? Due euro? Due euro a copia? Quei due euro non riusciamo a metterli nei 29, anche perché si va a pagare 30 euro a quest'albo, perché cosa? Per storie ristampate, bellissime, senza tempo, memorabili, ma sono comunque ristampate, apparse tutte su Topolino, la maggior parte di chi mi segue questi numeri non li ha, inevitabilmente, e Pagnini gioca su questo, sul fatto che sia una storia molto vecchia, molto conosciuta, ma comunque difficile da reperire, anche se le ristampo, ormai cominciano ad essere tante, ma posso capire che la scelta abbia un suo senso. Quindi, facendo proprio un ragionamento economico, di questi 30 euro, quali sono stati i costi di produzione? Io penso che 10 euro ad albo costi materialmente il fumetto, e voglio fare questo discorso, non perché, ripeto, voglia mettere il naso dentro Pagnini Comics, ma voglio cercare di capire, e per farlo do aria le mie emozioni, penso a voce alta. Quindi io penso che 10 euro ad albo del genere si può rilegare, ovviamente non uno solo, ma ne avranno fatto 300, 400, 500, non so quante copie, ma forse anche 1000, non ne ho idea, e purtroppo non ve ne ho detto, quindi devo solo ipotizzare. Chi altro venne pagato? Casti, inevitabilmente, non mi interessa quanto, Mercatelli pre-redazionale, l'impaginatore, il colorista, colui che ha graficamente impaginato, ripeto, il redazionale, ma di questi 30 euro quanto Pagnini Comics ha guadagnato? Perché io ho la vaga impressione che di questi 30 il guadagno sia veramente alto. Mi smonterà, mi farà cambiare idea qualcuno di voi. Voglio credere questo. Non è richiesto, perché io non sono nessuno, qualcuno mi definisce un'autorità del fumetto su YouTube, no, io sono un lettore come voi, che ha il coraggio semplicemente di esporsi, tutto qua. E c'è bisogno di capirla questa cosa, perché per 30 euro, io sono sincero, mi aspettavo un omaggio migliore. E non ce l'ho con Casti, attenzione, figurati, Presi l'albo solo per lui, ce l'ho con Pagnini Comics, perché un tempo, ti parlo di un'altra era, ovvero pre-pandemia, pre-covid, con 30 euro, ci compravvi questo, ci compravvi la Deluxe, qualcuno può dire 29, 30, va bene, insomma, cambia poco, ci compravvi la Deluxe, tutto questo accadrà ieri, tutto questo accadrà domani, Impero sotto zero, e tante altre storie come queste. Grandissimi formati, il confronto è la Palissiano, grandissima carta, molto valida, il post, i redazionali, comunque con bozzetti, ecco, di questi redazionali, mi aspettavo anche qualche bozzetto, perché si cita anche Sabina Scarpa, tra i collaboratori, che non mi sono informato, ma per il cognome, presumo sia la figlia, la nipote, o comunque una parente, ma possibile che Scarpa non abbia un archivio, non abbia niente da mostrare, d'altronde chiudo con questa piccola mia massima, che sintetizza il mio pensiero su questi albi, ovvero che il fumetto ormai, non soltanto questo Disney, ma un po' in generale, è diventato un mero oggetto, ben confezionato, con la bella copertina, e ben sponsorizzato, fine, non parliamo più di fumetti, parliamo di oggetti, di prodotti, parliamo di gadget, tanti allegati, omaggi, litografie, ma alla fine parliamo di fumetti, e al 90% dei casi, tolto il topolino, e qualche serie va a te la pesca, non abbiamo mai nulla di inedito, adesso ciò che è inedito, è redazionale, è il commento dell'autore, è la prefazione, è un disegno, io seriamente pagai 30 euro, per la copertina, e per l'omaggio, che sinceramente, mi aspettavo qualcosa di più, che una sola pagina stampata, su un foglio neppure a quattro, bella la carta, ok, perché non vedo il retro, per intenderci, quindi non è lucida, non è traslucida, è bella, ok, ma sono sempre 30 euro, concludo dicendo, che io non mi farò più fregare, ho sempre detto, fino ad oggi, che anche se, c'è Casti, in copertina, io l'avrei preso, ma con oggi concludo, questo mio pensiero, mi dispiace, è più che altro per me stesso, perché di Casti ho tutto, e dovesse poi uscire un domani, un altro fumetto, che so, grandi maestri, di Roma di Sacarpi, e abusassero, del nome di Casti, a quel punto, non lo prenderò più, mi dispiace, ricorderò, questo momento, perché comunque, 30 euro, sono tanti, e il fumetto, che è un passatempo, che è un'emozione, che è un'evasione, va a passo con la realtà, inevitabile, ma non può diventare, così tanto costoso, così tanto, materiale, perché di fatto, se togliamo le storie, non c'è niente, e queste storie qua, ristampate, non valgono 30 euro, proprio a livello, materiale, non valgono 30 euro, per qualcuno, sono inestimabili, ma, economicamente, quest'albo, non vale 30 euro, per quello che offre, e per come venne promosso, quindi mi dispiace, per me Casti, continuerò a comprare, le sue storie, continuerò a comprare, le sue ristampe, quello sì, ma eventuali, omaggi, a meno che, io non ne rimanga, veramente colpito, non saranno più, nei miei desideri, non mi interesserà più, qualcuno ora dirà, ma Zio Anem, bastava non comprarlo, hai ragione, hai ragione, ma non lo sapevo, rimasi, in qualche modo, stimolato a comprarlo, perché c'era il famoso, omaggio a Di Casti, quando poi l'omaggio, un'ottima cover, e un disegno stampato, cioè un disegno, inserito in pagina, perché non è manco, non è che è stampato, che si può staccare, no, inserito in pagina, gran peccato, e niente, mi si scarico il telefono, perdonatevi per questa brusca interruzione, del mio discorso, ma tutto ciò che penso, l'ho detto, e direi che, sto tornando abbastanza chiaro, non lasciatevi da me influenzare, è soltanto una mia opinione, che si basa, alla fine, sulla soggettività, anche se, a mio avviso, a cosa di oggettivo c'è, vi ringrazio, vi saluto, alla prossima, ciao ciao, 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 ciao,